pacifica pacata risposta al video di Gio Pizzi su il discorso del professor Galimberti. Allora questa non è una risposta intelligente, è semplicemente una sorta di discorso buttato lì, un po' freddo, un po' caldo però ovviamente in modo molto pacifico e non ha niente a che vedere con un attacco alla persona, non ha niente a che vedere con insulti o cose del genere, è semplicemente un discorso in cui critico il modo con cui Gio Pizzi, che seguo comunque con tanta passione e divertimento perché mi guardo quasi tutti i suoi episodi fino alla fine ed è proprio per questo che ho trovato questo episodio suo su Galimberti e i vecchi e appunto voglio attaccare il concetto, il modo con cui lui ha operato il video in cui lui ha tagliato il discorso di Galimberti. Allora innanzitutto primissima cosa che voglio dire che proprio a livello molto generale è che io sono assolutamente contrario concettualmente anche eticamente a qualsiasi taglio di video in cui si estrapola parte di un discorso molto più complesso e si criticano solo le sue parti, sono solo brevi segmenti di frasi dette o anche scritte al di fuori di un contesto più globale all'interno del quale esistono magari significati specifici da attribuire a termini particolari come ad esempio tecnica, invasione, allevamento, neri, bianchi, di razzismo, post Jim Crow, colonialismo, postcolonialismo eccetera. Allora quindi è ovvio che se io leggo, faccio un esempio, Eric Hobsbawm che so di essere uno storico di sinistra, so che quando lui parla di Russia e parla del sistema economico della Russia sotto Lenin e poi sotto Stalin usa un determinato tipo di narrativa che è particolare del tipo di fede nelle politiche di sinistra e nel socialismo osboniano dell'epoca in cui lui ha scritto il secolo breve per esempio, è un'epoca già diversa da quella in cui ha scritto l'età degli imperi, però so che il suo discorso è da intendersi all'interno di un pensiero globale dove lui aveva una visione del mondo, della politica mista a cui lui avrebbe evoluto per il mondo occidentale che era uno stampo molto più socialista che liberista. E questo è vabbè, è una cosa buttata lì, però è già un modo con cui io potrei invitare la gente a leggere Hobsbawm nel caso in cui siano interessati a leggersi l'età degli imperi, il secolo breve e altri scritti in cui lui ha fatto la presentazione come ad esempio l'invenzione della tradizione di David Eccetera. Quindi quando si legge il, scusate un po' di caffè, quando si legge il professor Gallimberti bisogna avere in mente qual è la sua posizione sulla società, la sua posizione sulla famiglia, cosa pensa lui dell'educazione, cosa pensa lui dei ragazzi diciamo diciottenni, quindicenni, sedicenni di quest'epoca, alto caffè e qual è la sua visione critica sulla famiglia, sul come vengono educati, su quello che la famiglia gli dovrebbe dare ma che non gli dà, l'attenzione che la famiglia dovrebbe dare a un bambino o ai propri bambini e diciamo il tipo di sentimenti che dovrebbe educare, che dovrebbe contribuire ad educare rispetto che dovrebbe avere per i maestri, per i professori, in modo da dare al bambino una visione uniforme di valori positivi in cui possa lui integrarsi e credere e poi in futuro quindi procedere con un'integrazione nella società senza uno scombustolamento di valori in cui ad esempio se la mamma insulta la maestra e il bambino si innamora o crede che la maestra sia il sole del suo centro della sua esistenza, vada, entra in un conflitto interiore, cada in piccole depressioni che poi a livello infantile creano tutta una serie di problemi che si scontano e si pagano dopo, queste sono tutte cose che lui ha detto che io ripeto in maniera molto posticcia e malamente e mi scuso per chi conosce Gallimberti molto meglio di me, io ho letto uno o due testi di Gallimberti, mi sono guardato tutti i suoi interventi, non sono d'accordo su tutto quello che dice, ovviamente ci sono delle cose come l'educazione dei bambini, la famiglia, la società, la tendenza che ha questa società verso il nichilismo in cui sono abbastanza d'accordo, poi ovviamente ho anche una cultura che ha una base musicale, quindi io sono non uno storico della musica ma mi interesso di storie della musica afroamericana e congiungo diciamo quello che studio della tendenza verso il nichilismo all'interno del mercato e lo sviluppo della musica afroamericana con quello che dice Gallimberti, quindi attaccare Gallimberti sul discorso della tecnica e dire che la tecnica non è quella che ci sconvolge la vita e non capire quello che lui ad esempio intende per tecnica. Io non è che abbia ben capito questo concetto di dispositivo, di tecnica di cui parla Gallimberti a pieno, però ho già per quel poco che ho capito non è la tecnologia la tecnica ma è un dispositivo che agisce all'interno della società e che cambia tutta una serie di parametri che erano precedenti e all'interno dei quali l'uomo viveva e si regolava e li cambia in modo tale da rendere la vita dell'uomo sempre più difficile e funzionale ad altri fini che al godimento del proprio piacere di vivere. Quindi in un certo senso quando lui dice sul posto di lavoro vi alzano l'asticella, è vero, io lavoro nelle corporation, io vivo a Londra, lavoro nelle corporation, ho lavorato per l'HSBC, HSBC, ho lavorato per Scotland Yard che va bene non è corporation ma è la polizia di Londra, ho lavorato per Bloomberg, ho lavorato per il centro di investigazioni Kroll e ho visto che dopo mesi di lavoro ti alzano comunque sempre l'asticella, cioè ti fanno fare sempre più cose nello stesso tempo pretendendo ancora più velocità proprio perché loro pensano che nelle cose che hai imparato prima e che hai sempre fatto prima sei diventato più veloce, cosa che può essere vera ma in caso ad esempio di lavori che richiedono molto ragionamento e molta tecnica a livello lo scrivere contratti, il negoziare contratti con i clienti esterni, i clienti esterni di solito sono grosse corporation che ti mettono davanti degli avvocati abbastanza competenti, rende la giunta di altri compiti, l'esistenza del povero legale o contract manager come sono io è molto più difficile e questo mi è accaduto in tutti i posti di lavoro perché è proprio una tendenza quella di darti sempre di più, arrivi a casa che hai la testa che non funziona più e l'unica cosa che puoi vedere sono i cartoni animati di Paperino se sei all school e i gattini e i cagnolini se sei new youtube style e questo è il discorso, io l'ho vissuto sulla mia pelle questo e ho dovuto porre dei rimedi a questo, adesso potrei anche dire quali sono a livello professionale però il discorso qua si incentra più sul fatto che tecnica e alzare l'asticella sono in realtà invece due grossi fattori che ci rendono la vita sempre più difficile lasciando un residuo di libertà sempre minore perché alla fine è la libertà della vita che ci dà il mondo del lavoro e di carattere residuario cioè ci stringi in uno spazio sempre più piccolo e poi il weekend uno si fa le pipe, si prende la cocaina e vai a ballare però effettivamente rimane chiuso in un ciclo settimanale che gli toglie tutta l'attività intellettuale io adesso faccio questi episodi in un periodo in cui non sto lavorando perché sto attendendo di iniziare un nuovo contratto, se avessi già il contratto in atto probabilmente gli episodi che farei sarebbero molto di meno e sarebbe anche molto più difficile farli invece proprio perché non sto lavorando e ho tutta la mia la mia potenza intellettuale per poche scarse miserabile che sia a disposizione per questo tipo di cose rendo molto meglio ovviamente voi direte ma Paolo hai scoperto l'acqua calda è ovvio però come diceva Carmelo bene in uno contro tutti il lavoro toglie la vitalità il lavoro toglie lo spirito di attività di intelligenza e di praticità ma soprattutto il lavoro distrugge l'entusiasmo un lavoro così come è strutturato 9 to 5 o 8 to 6 o 8 to 5 cioè 8 to 5, 9 to 5, 9 del mattino distrugge all'interno del mondo corporativo londinese della city e di altri posti distrugge qualsiasi tipo di entusiasmo umano perché io lo posso confermare all'interno dei posti di lavori esiste dei posti vari di lavoro esiste lo stesso dispositivo che è molto tecnico perché si attua tramite tutta una serie di gerarchie che ti impongono tutta una serie di cose da fare o di non so come dire compiti da fare in un determinato modo con certi livelli di difficoltà e questo fa parte della tecnica fa parte cioè di quel modo di quelle cose che anche la tecnologia stessa influenza perché il fatto di avere un computer di lavorare tutto solo su screen e tutti i tuoi dati sono su un server che solitamente ritiene anche tutte le vecchie email vabbè qui in Inghilterra per la legge sul data protection act non più di sei anni però comunque in ogni caso hai tutto l'archivio di tutto quello che hai scritto durante il tuo lavoro accessibile quasi istantaneamente sul tuo browser eccetera questa è tecnologia che porta a chi ti sta comandando al tuo boss al tuo manager di porta l'autorità a lui di poterti dire che tu non hai scusa perché non ti puoi sbagliare perché quando hai tutto il tuo browser con tutte le email fossero anche 57.000 se uno in data del marzo 2017 ti aveva mandato un'email dicendoti abc e questo abc è ancora valido tu lo devi sapere e questa è tecnica questo questo atteggiamento di prepotenza fatto all'interno di un contesto professionale dove tu devi essere preciso e perfetto e qualsiasi cosa di buono tu faccia viene quasi annullata dalla dimenticanza del più piccolo dettaglio ricevuto uno due anni prima è un atteggiamento da figli di puttana che non si rendono neanche conto di esercitare un potere che è dettato da un atteggiamento da quello che è il discorso che Gallimberti che molti altri filosofi hanno fatto sulla tecnica io mi sono letto Gunther Anders l'uomo è antiquato e se te lo consiglio anche a te Gio Pizzi se non hai se non ti va di leggere Gallimberti ma vuoi leggere qualcosa di ancora più sostanzioso leggiti tutta l'opera l'uomo è antiquato 1 e 2 di Gunther Anders dove se non c'è lì qualcosa che ti convinca che la tecnica ci sta distruggendo la vita io non so veramente cioè ci sarà qualcun altro che è più filosofo di me che più filosofo di me che è veramente competente in filosofia mi consiglia Gio Pizzi vada sulla sua pagina e gentilmente con educazione gli consigli delle letture dei libri da leggere così fa un'altra versione del suo episodio e chiarisce chi ha detto delle ciofecate colossali purtroppo su quello che ha detto il professor Gallimberti in quel piccolo estratto che ha spezzettato e che ti dico Gio hai fatto malissimo a spezzettarlo perché prima dovevi far andare tutto l'intervento di Gallimberti prenderti nota e poi criticare punto per punto da un punto di vista filosofico e non da un punto di vista del buon senso comune perché tu e altri canali youtube parlate molto per senso comune alle volte il senso comune è ottimo perché si parla di cose all'interno delle quali il senso comune può amministrare un sano discorso che porti a una conclusione è un arricchimento reciproco ok però ci sono delle volte in cui bisogna essere più tecnici soprattutto se si prendono dei testi e delle cose che vengono da personale specializzato in filosofia come Gallimberti che usa un linguaggio tecnico l'invasione di cui parla Gallimberti poi per passare a quest'altra parte le confettiere bialetti però eh caro Gio è anche lì un altro discorso perché se tu avessi letto Costanzo Preve che io ho letto con tanta passione in questi anni imparando ben poco però mi è sempre tanto piaciuto leggerlo l'ho scoperto su youtube e mi sono comprato diversi suoi libri ho comprato anche la storia della filosofia che ha scritto prima di mancare buonanima Costanzo Preve e non mi ricordo se nella quarta guerra mondiale o nella storia della filosofia e qui c'è qualche previano che mi può correggere lui parla proprio del fatto che noi nel passato abbiamo invaso tutte le popolazioni dell'estremo oriente noi noi del west diciamo noi l'America e tante altre tante altre nazioni eh cita ad esempio tutte le invasioni americane eh in in paesi islamici cita la la funzione di Israele vicino a diciamo a territori che non hanno mai tollerato la sua presenza all'imposizione di questo eh di questo stato eh e arriva la conclusione che le le invasioni che noi abbiamo adesso di immigrati e di di persone che ci fanno alcune delle quali una minoranza delle quali fanno anche dei casini eh di tipo terroristico è dovuta al fatto che è una reazione a quelle invasioni che noi nel passato dagli anni cinquanta anni poi l'America e altri stati hanno fatto quando sono andati lì hanno spaccato tutto difatti esistono dei campi di rifugiati ci sono tutti i documenti su youtube adesso non voglio fare politica una storia della politica è una teoria di diversi filosofi questa dell'invasione io la chiamo l'invasione di ritorno cioè tu lanci il boomerang e poi il boomerang ti ritorna indietro però l'hai lanciato tu cioè siamo stati noi che siamo andati anche a rompere i coglioni e poi ovviamente c'è tutta una storia del passato in cui per quanto possa essere stato giustificato eh giustificato descritto e si può descrivere in maniera anche comprensibile eh il discorso delle crociate esiste anche lì insomma un rapporto di eh amore conflitto con cui con determinati paesi eh e io capisco che la storia è molto complicata e non si può ridurre tutto a lanci il boomerang e poi il boomerang ti torna indietro però comunque secondo me questa invasione di migrati e la presenza anche di terrorismo in determinati paesi dell'ovest è dovuta a determinate cose che l'ovest ha fatto a questi paesi nel passato se voi ricordo leggete Chomsky Chomsky vi parla di eh figure di figure scusate di azioni terribili che i soldati americani avrebbero fatto in determinate zone in estremo oriente dove davanti agli occhi dei figli hanno bruciato vivi i loro genitori e cita uno o due casi e cita che questi ragazzini che hanno visto questa scena sono giustamente diventati terroristi se io mi vedessi dei dei militari americani che mi bruciano vivi i miei genitori la prima cosa che faccio è vado dal primo centro di arruolamento edito e dico datemi il bazooka più grande che c'è che lanci anche delle belle fiamme un lanciafiamme bazooka del nuovo del nuovo modello kxpqr spaccotutto.com perché dopo aver vissuto un'esperienza allora andando dietro le storie delle persone andando dietro la storia e soprattutto andando dietro a tutta una serie di di cose che sono avvenute si capisce perché se da una parte c'è stata un'azione fatta molto tempo fa e che è continuata tramite vari conflitti guerre e cose fino a di recente si pensi alla guerra del golf ma ci sono ci sarebbero tantissimi esempi da fare se voi vi leggete di ascent of money se non mi sbaglio naial ferguson fa un bel a metà libro fa un bellissimo riassunto di tutti le rotture di coglioni americane in determinati paesi appunto in quell'area e parla come parlavo baun in relazione ai conflitti dell'africa di un certo tipo di disordine che è stato creato da quello che è l'interventismo americano per quanto giusto per quanto giustificato da diecimila motivi o forse non giusto per niente lì dipende poi dai punti di vista e dalle conoscenze storiche che la gente che ha al di là della guerra del petrolio ci sono poi quindi esiste comunque una risposta gli immigrati sono una risposta a quello che è avvenuto nel passato purtroppo io te lo devo dire questo non so neanche se è una mia idea è una cosa che ho letto è una cosa che ho letto in costanzo breve è una cosa che di cui ho sentito parlare anche gallimberti gallimberti ne parla di questo parla di quello che è stato di quello che è successo prima di quello che è successo adesso è una teoria che si può abbracciare è una teoria che si può criticare comunque se tu vuoi criticare questa teoria come vedi io non la supporto nella nego perché non ne so abbastanza dovresti essere molto colto dovresti conoscere molto bene le argomentazioni di chi sostiene questa teoria dovresti conoscere molto bene la storia parlare di tutto quello che è successo a livello di torti da una parte all'altra e da questa parte alla nostra e capire il perché ci sono state ad esempio certe città che sono state spezzate ad esempio in tante frazioni e tra queste mini frazioni che si sono create dall'interventismo americano si sono creati dei gruppi terroristici così che come dall'azione della polizia in irlanda ad esempio negli anni 70 si è creato un determinato di terrorismo proprio perché effettivamente ci sono andati così pesanti da creare persone che si sono opposte a un certo tipo di oppressione che non solo non è stata capita ma che ha generato proprio un odio di ritorno e sono cose che succedono queste nella storia tra le altre cose ci sono stati un sacco di insabbiamenti ci sono stati un sacco di comunicazioni sbagliate su questa cosa e tu stai toccando un argomento che come vedi anch'io cerco di tenermi il più al di fuori possibile ma tu ci vai proprio dritto dice chi ti chi cosa c'entra l'invasione chi c'è invaso perché tu hai all'invasione di gallimberti una connotazione negativa in realtà l'invasione di gallimberti non ha una connotazione negativa invasione sta a rappresentare qualcosa che è causato da una nostra invasione nel passato noi abbiamo voluto fare abc e adesso ci succede fg punto tu hai voluto prendere tanto alcol e adesso stai male ecco questo è il discorso lui lui sta facendo un discorso del tipo chi è causa del suo mal non pianga se stesso poi mi corregga qualcuno che conosca gallimberti meglio di me se sto dicendo una cazzata l'impressione che io comunque ho avuto dal suo discorso sulle invasioni che ha fatto anche mi sono visto tutti gli interventi mi dà proprio l'idea di questo che un'invasione giusta dovuta al fatto che noi siamo andati a rompere i coglioni e grazie a noi questi paesi sono completamente devastati non è che quei conflitti sono nati da soli lui dice questi vengono perché gli abbiamo fatto un casino in casa e adesso vengono qua a casa nostra e questo è il discorso forse nell'intero quindi non vedo perché tu dovresti attaccare una persona senza argomentare sulla sua teoria in maniera efficace poi può darsi che quello che ho detto io sono tutte cazzate e fanno parte del teatro delle carabatole e allora invito una persona seria a farmi una video risposta e a farmi dei commenti molto lunghi in cui io possa imparare qualcosa di nuovo e quindi chiedo venia e ho utilizzato questo video in un senso per provocare chi ne sa più di me perché appunto mi illumini e ci illumini tutti ma illumini anche giopizzi perché effettivamente giopizzi hai topato mi dispiace poi un'altra cosa le famiglie e i bambini gallimberti fa un discorso ben chiaro in cui dice che la famiglia deve dare attenzione al bambino e deve dargli fiducia creare un ambiente dove il bambino non viva il numero di contraddizioni minori da un punto di vista psicologico dove il bambino faccia crescere la fiducia in se stesso e l'apprezzamento per le cose che fa come dice quando come gallimberti quando un bambino dà il disegno alla mamma e la mamma dice sì lo guardo domani e il bambino ci rimane male perché quel domani significherà mai per il bambino perché lo sa che poi la mamma non la guarda più il bambino perde la fiducia nel genitore ma perde anche la fiducia in quello che fa quello che faccio io non interessa la mia mamma da adulti noi abbiamo anche questo tipo di esperienze tu fai un pezzo musicale al piano in un locale nessuno ti caga magari semplicemente gente che non gliene frega niente ma in realtà tu hai fatto una bella cosa ma tu puoi sempre pensare io faccio schifo adesso se tu hai 30 anni e non sei un bambino giustamente metti un bel muro di razionalità davanti e dire no tutto sommato io ritengo di essermi confrontato con dei colleghi non suono così male quindi se non mi ha cagato nessuno è semplicemente una coincidenza ma ovviamente se sono un bambino e c'ho cinque anni e do il disegnino alla mamma io mi ricordo questo fatto molto privato ma niente di scandaloso ero con un mio amico del che 30 40 anni anni fa in un negozio di dischi c'era suo figlio piccolino carino che mi dà una cosina di quei giochini che facevano i bambini con i numerini che bisogna togliere le etichette scoprire non so cosa allora io mi metto in ginocchio arrivo alla sua altezza cioè mi metto proprio così in basso nel negozio di dischi dai spiegami cos'è sta cosa e ci siamo messi lì a parlare io ma a fine non ci ho capito niente e adesso a distanza di anni lo posso dire non penso che sarò questo è già un uomo cresciuto non è che fossi molto interessato però ho voluto dare un sacco di fiducia a questa cosa per far vedere che quando questo qui ha avuto il coraggio di approcciarmi come stranio perché io non ero suo padre ero l'amico di suo padre lui mi conosceva poco io ho manifestato un grande interesse per questa cosa io con i bambini ho sempre cercato non sono molto bravo a stare con i bambini ma mi sforzo a essere empatico quindi questo dice Gallimberti ai figli non gli si dà l'iPhone in mano e li si lascia lì i figli vanno educati e vanno e vanno attenzionati in maniera continua senso prima ovviamente lasciandoli liberare la propria creatività la propria creatività lo so che fare il mestiere del genitore è la cosa più difficile del mondo io non dovrei parlare perché non sono genitore però conosco molti genitori a cui ho fatto molte domande incluso mio fratello e mia sorella e mi hanno risposto bene esattamente in maniera più semplice però con un concetto simile a quello che dice Gallimberti alla bambina al bambino bisogna quando ti chiede le cose bisogna star lì e parlare il suo linguaggio il suo livello fargli raccontare le cose fare domande far vedere si capisce anche dargli qualche stimolo per migliorare il suo pensiero e farlo andare un pelino avanti quando un bambino viene ti chiede ma perché la terra dicono che gira ma io non vedo girare niente e allora bisogna mettersi lì e spiegare poi se sei un terapiatista gli spiegherai la sua teoria della terra piatta se sei invece un non terapiatista ma un terra rotondista o sferista gli racconterai la teoria appunto del geoide su cui siamo che gira con tante due rotazioni quante sono vedi che padre cattivo che sarei comunque alla fine dei conti lui dice ai bambini viene data una cattiva educazione al bambino la mamma ad esempio insulta la maestra la maestra in un certo senso si sente sicura del lavoro che fa il bambino crede che la maestra sia di nuovo anche lì uno degli altri centri del suo mondo la mamma insulta la maestra sono due autorità all'interno del bambino che entrano in conflitto e il bambino cale in depressione o in confusione questo è il discorso che faceva gallimberti sul significato della famiglia quando la famiglia dà un telefonino in mano al figlio lo invita al nichilismo ed è per questo che abbiamo un sacco di gente che non crede in niente che non ha una visione del futuro perché non è stata educata ai sentimenti e soprattutto dopo i sentimenti non è stata educata a fare progetti per cui anche nel nulla più assoluto in un paese povero o comunque che sta andando in crisi dove non ci sono più valori non ci sono più narrative dove non c'è più niente da raccontare effettivamente un'educazione può fare tanto insegnare ai sentimenti insegnare che anche un uomo può piangere da fin da piccoli insegnare che un bambino deve rispettare le persone per i sentimenti che hanno che deve imparare a ascoltare piano piano dando informazioni piuttosto che mettergli un telefonino davanti e fargli vedere delle cose che non sono adatte a lui e quando dico cose che non sono adatte a lui ne intendo diverse cose io non intendo solo la violenza e le offese gli insulti e le risse che si possono vedere su youtube su instagram su twitch eccetera ma intendo anche tutta una serie di cose come ad esempio le cose che ne so una lezione di filosofia di rick du fer o di analiside dove parlano di cose di tortura o di violenza che magari un bambino di 5 anni non è non è pronto a recepire come genitore non è che youtube dovrebbe mettere dei filtri sono io come genitore che ha il bambino rick du fer che parla della tortura nel medioevo non glielo devo far vedere finché il mio bambino non è un ragazzo se non un uomo un ragazzo comunque anche giovane e allora diventa magari politicamente attivo ha una certa visione del potere allora a quel punto in quel momento gli fai vedere come certe dinamiche di controllo della popolazione del potere sono avvenute nel passato gli fai vedere come erano le carceri medievali come era la tortura come funzionava e gli fai vedere anche l'episodio di rick du fer con una base lo stesso discorso io quando vidi per la prima volta i 120 giorni di sodoma di sodoma di pasolini avevo già letto un sacco di cose e avevo già letto pasolini e avevo capito qual era il punto di vista che di pasolini che faceva vedere quel film come una metafora del potere l'anarchia del potere quel discorso in cui i quattro signori si ragione si 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 chiudono in camera e incominciano a parlare noi noi che abbiamo il potere in realtà siamo i veri anarchici perché facciamo quello che vogliamo è il discorso che ha scandalizzato tutti gli anarchici e le persone che all'epoca avevano visto questo film è una provocazione immensa ed è una metafora incredibile sul potere come anche in todo modo che un film molto pasoliniano non so joe pizzi guardati a todo modo così capisci ancora un po di più che cosa vuol dire il nichilismo del potere è il nichilismo con cui il potere vuole condizionare la vita familiare in modo tale da creare un rapporto nullo tra genitori e figli dove il potere viene dato ai media perché nel momento in cui tu dai un telefonino ai bambino lo metti in comunicazione con i media che sono un potere anch'esso se tu leggi chomsky i media sono un potere enorme come cazzo fai tu a dare a un bambino un iphone o non è un ipad sapendo che quel potere che viene espresso all'interno di tutti i programmi le applicazioni che stanno in quell'ipad influenzeranno direttamente tuo figlio non solo per ciò che riguarda informazioni a livello di dati a livello di stato brado ma anche a livello di comportamento di educazione sentimentale ricordiamoci quello che è il mondo delle pubblicità è il mondo dei feed e in questo sono veramente in accordo se non sbaglio si chiama cook philosophy quando dice che tutto l'idea tutta tutta la cosa che deve costruire il feed così come la pubblicità è un mondo di stimoli che creano una realtà temporanea che poi viene distrutta fino a quando il prodotto non viene acquistato e arriva una nuova pubblicità che tende a ricostruire un altro insieme di valori e di paesaggi interni che rappresentano in un certo senso il nuovo idolo a cui puntare è per questo che esistono i consumisti esiste il consumismo esiste chi compra in continuazione prodotti nuovi perché si va da illusione a illusione non c'è un apprezzamento della vita a livello scusate scusa caro microfono non c'è un apprezzamento della vita allo stato diciamo più puro cioè vivere per il per il semplice piacere di andare fuori di fare una passeggiata senza comprare niente vivere per ammirare un paesaggio vivere per parlare con una persona con cui ci fa piacere parlare consumando al massimo un buon caffè o una bevanda è questo contro tutta una serie di valori che vengono creati e riformati alla fine di farci comprare un determinato prodotto adesso a londra non si fa a che vedere dappertutto la pubblicità del nuovo iphone 11 xsr quello che cavolo è e io dico boh ma non lo so mi sembra un po' poco vivere a cinque sei sette anni di età con un ipad un iphone belli belli connessi con una fibra ottica che ti danno accesso a praticamente tutto includendo anche un'educazione al consumismo più più spietato no come tutti quei feed che ti vengono a chiedere ma che barbie saresti tu ma che puffo saresti tu ma quanti anni pensi di avere mentalmente che poi ti portano sempre a siti dove c'è qualcosa da vendere io non sto criticando queste cose come i morali sto dicendo che un adulto con una capacità critica queste cose le vive come dire è che c'è prova in continuazione cosa mi sta a rompere i coglioni un bambino le preleva le ingloba le assimila viene un osmosi con questo mondo e di conseguenza poi diventa parte di sé un modo di pensare che è basato sul nulla perché è basato solo esclusivamente su quello che è l'apparire in un determinato modo e il possedere cose temporaneamente che soddisfino il raggiungimento di un fine temporale che viene appunto distrutto e ricreato con un nuovo prodotto che si presenta il mese dopo il giorno dopo la settimana eccetera 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 o ad esempio la falsa conoscenza di pensare che per essere un ballerino non devi avere l'apertura di gambe non devi saper saltare ma chiunque può diventare un ballerino chiunque può diventare un famoso youtuber perché tanto basta parlare davanti a una telecamera non è vero allora perché io se parlo davanti a una telecamera ho 4000 iscritti e 500 sull'altro canale e c'è chi ne ha 7 milioni e parla ugualmente davanti perché c'è veritasium che ha tutti quelli iscritti vuol dire che veritasium ha dei numeri in più di me ma se veritasium ha dei numeri in più di me vuol dire veritasium è un'altra persona con un altro talento con delle cose che io non ho e quindi non è vero che youtube fa diventare tutti youtuber famosi perché è il mezzo che crea il personaggio no il personaggio è già qualcuno che in potenza è qualcuno che ha delle capacità per fare quello che poi farà poi può avere più o meno fortuna ma fondamentalmente il discorso è basato sul talento bisogna averne un po l'intervista al grande dj minimal techno ricardo villalobos lui dice quando gli chiedono per la centesima volta ma qual è il segreto del tuo successo il segreto del mio successo e dice la prima cosa well you need a bit of talent e poi dice fortuna solite cose ma è bit of talent lui lo dice in maniera un po' eufemistica in realtà per essere un villalobos devi avere tanto talento perché villalobos non ha il talento di una persona normale villalobos è una persona speciale così come ritchie oting è un dj speciale così come gran master flash era una persona è un dj speciale che aveva un talento speciale così come che ne so mi viene mi verrebbe in mente chiunque da tupac fino ad arrivare a 50 cents sono persone selezionate quelle sono persone specifiche con un talento specifico quindi anche lì joe pizzi quando gallimberti ti dice che i genitori non dovrebbero dare il telefonino in mano ai figli è per non creargli quel falso quella falsa idea in testa anche nel credere che possono diventare youtube come youtube fa cagare o come chissà chi altri o come fa vj perché effettivamente magari uno uno tra tanti lo diventa anche così altri si dovranno accontentare di una vita più mediocre e si disilluderanno su tutta la società perché effettivamente hanno ricevuto un'educazione al successo basata sul loro rapporto solitario con un iphone o con un ipad che non gli ha detto hey stai attento perché ce la fa uno su milioni no no vai 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 spendi vai promuoviti spendi in promozione digitale e poi e poi che cosa ottieni io non voglio disilludere la gente ma voglio dire è bello credere nelle cose e realizzare i propri progetti però bisogna essere coscienti che nel momento in cui si sta realizzando un proprio progetto si ha un determinato valore che potrebbe essere anche non sufficiente per il conseguimento di un enorme successo con questa piccola autodifesa immunitaria psicologica si arriva a non disilluderci nel caso in cui non raggiungiamo il milione di iscritti io sono contento di fare i video anche se non ho un milione di iscritti e non li avrò mai ma chi cazzo se ne frega è bello parlare con voi stimolare i vostri commenti e dare la possibilità a voi di chiarirmi le idee su cose su cui io so molto e ancora troppo poco come in questo caso nel caso di argomenti filosofici su cui giopizzi sa ancora meno di me allora in questo senso io adesso non vado a prendere tutti i punti come ha fatto lui ho già triturato il povero giopizzi o meglio ho già triturato gli argomenti di giopizzi su queste tre cosucce io che sono appunto la tecnica l'invasione diciamo l'educazione ai bambini e il nichilismo al quale una sbagliata educazione può portare i bambini nichilismo in senso negativo perché io non so può esserci anche un nichilismo filosofico di tipo post nicciano in senso molto positivo non dico che il nichilismo sia tutto sia brutto in sé però un bambino deve essere deve arrivare al nichilismo diciamo secondo me razionalmente filosoficamente non ci deve arrivare perché è stato abbandonato lì e non crede più niente quello non è nichilismo neanche quello effettivamente è mancanza di valori assoluti mancanza di apprezzamento dei sentimenti poi c'è tutto il discorso di gallimberti sul perché della di certi individui violenti perché mancano a loro manca un'educazione di sentimenti lui dice quando intervistano qualcuno di quelli che hanno uno che ha spicchiato e stuprato una ragazza gli chiedono ma ti rendi conto di quello che hai fatto lui dice no perché per lui non avendo il sentimento di quello che è il ricevere una violenza tale non avendo probabilmente avuto un'esperienza indiretta di educazione a quel sentimento non che uno deve essere stuprato per capire che non deve stuprare gli altri ma aver visto delle cose che lo hanno ferito e che gli hanno fatto pensare quanto sia brutto offendere fisicamente anche psicologicamente un'altra persona pensa che pensa sinceramente che quello che ha fatto sta più o meno in un'esagerazione di un divertimento che forse è andato un po male e ha finito male perché poi magari la ragazza muore però o un ragazzo violentato e stuprato muore però quelli che hanno fatto la cosa l'hanno fatto un po così perché si annoiavano perché era più o meno divertente non sono ovviamente tutti questi non si può generalizzare lui fa diciamo il professor gallimberti fa l'esempio di uno o due casi in cui è stata ottenuta questa risposta ed effettivamente a me verrebbe da aggiungere può anche darsi che sia un consiglio dell'avvocato perché se l'avvocato fa dire al proprio cliente che ha fatto il proprio che ha fatto quel male che ha fatto non sapendo quello che stava facendo perché era in uno stato di semi incoscienza ed è anche un po definito e lo fa passare un po per deficiente la pena ad esempio in inghilterra è minore perché ovviamente tu sai certo va in galera comunque però la pena la pena diventa minore può anche essere una tecnica di comunicazione certamente uno non risponderà mai davanti a una telecamera sì l'ho fatto perché volevo proprio stuprarla quella zoccola e appunto e tt e tt e tt e tatà e tatà e tatà quindi nel momento in cui tu togli l'intenzione c'hai hai un piccolo sconto della pena ma in galera ci vai comunque e in ogni caso hai fatto una cosa terribile può anche darsi che tu risponda genuinamente che non sapevi quello che stai facendo che per te quella era un'esagerazione di un divertimento un po così ma effettivamente ricalco di nuovo la cosa il discorso di gallimberti sulla violenza e sulla comprensione e sulla sulla sul dialogo con le persone violente è qualcosa che tu dovresti rivederti magari ci sono diversi interventi in cui lui ne parla facci un salto adesso io come vedi già questo episodio non l'ho preparato non sono stato non ho preso tutte le cose non ho studiato non ho preso libri ho letto leggo tanto mi ricordo qualcosa che ho letto e l'ho buttata lì ovviamente è una cosa molto pacifica molto sincera e soprattutto invita persone come te che hanno veramente tanti subscriber a cercare di essere un pochino più accurati nelle cose che dicono cioè io non dico che uno deve studiare tutta la vita arrivare a 60 anni aprirsi un canale youtube e con tutto in testa dire delle cose con molta misura perché youtube è per tutti e chiunque può andare lì a dire tutte le cazzate che vuole però persone come te che hanno un certo tipo di apparenza che tra le altre cose non è la prima volta che critichi poi tra le altre cose i cinquantenni per le cazzate che fanno su internet allora sappi che io ho 52 anni di cazzate ne posso anche fare adesso quando sto parlando davanti a una telecamera su internet però effettivamente generalizzi e fai lo stesso errore che fanno i cinquantenni quando generalizzano sui sedicenni no i cinquantenni generalizzano sui sedicenni tu generalizi sui cinquantenni qualcun altro generalizzerà sui quarantenni così alla fine ci diciamo di tutto senza sapere neanche il perché e a chi è diretta veramente questa critica perché come diciamo esistono sì un sacco di cinquantenni che fanno un sacco di cazzate su internet io conosco anche un sacco di ventenni che fanno un sacco di cazzate su internet io conosco anche un sacco di trentenni che non sanno usare bene internet che hanno postato cose private in posti pubblici non sono più riusciti a toglierle quindi non so di che cosa stiamo parlando realmente poi se vogliamo parlare di percentuali ci vorrebbe uno studio sull'alfabetizzazione informatica fatta in europa serio e vedere effettivamente gli incidenti causati da diversi soggetti di appartenenti a diverse fasce d'età e vedere effettivamente se è vero che sono i cinquantenni la causa di molto del male che c'è su internet magari per quello che appare a te e quello che è il concetto che gira in italia può darsi che sia così io vivo a londra e considero il mondo occidentale su base costruito su base liberista america europa e qualche altro paese come un pochino più ampio e quindi sarebbe bello non prendere solo l'italia come posto di considerazione perché l'italia è importante meravigliosa e splendida è uno dei fari della fashion della cultura della storia nel mondo però è uno dei tanti paesi del mondo e se si fanno discorsi generalizzati e si parla di cinquantenni bisognerebbe prendere cinquantenni e fare degli studi leggere anche studi fatti da altri fare ricerche proprie vedere se ci sono statistiche serie e insomma farsi un'idea in base a una ricerca personale anche qui buttare episodi come fai tu in continuazione solo per fare magari sì visualizzazioni no tu hai un canale che è molto aggressivo in questo senso e invece me facessi un po meno dicessi delle cose un pelino più ragionate soprattutto dopo un po di ricerca eccetera eccetera io ho avuto già nel passato altri canali che ho preso un po di mira e ai quali ho criticato cose che avevano dette tra le altre cose in ambito musicale perché mi sono sentito un po toccato dal momento che queste cose erano inesatte allora dal momento che per me in base a quello che ho letto studiato io erano inesatte mi sono sentito in dovere di condividere gratuitamente e non per visualizzazioni ovviamente questa critica io sono anche cosciente che i miei video sono molto lunghi e parlo molto quindi non sono fatti a scopo commerciale ma sono fatti per chi vuole in un certo senso argomentare con me o per chi effettivamente vuole scoprire altri aspetti o altri lati dai quali analizzare e vedere certi eventi nella realtà io tra le altre cose sull'altro canale the many red che ti consiglio di andare a vedere faccio anche episodi di risposte su questioni musicali come vedrai ci sono argomenti molto tecnici ma secondo me argomenti tecnici vanno valutati in maniera tecnica cioè non si può valutare un argomento come quello sul povero professore galimberti su cui non si può essere d'accordo d'accordo dal punto di vista della sociologia o della filosofia ma bisogna sapere argomentare a quel livello cioè o ci metti un filosofo o una persona che ne sa di filosofia a parlare col professore che sia comunque un po all'altezza per non far sentire il professore inadeguato ad una discussione veramente troppo elementare oppure stai zitto e cerchi di capire meglio o gli fai delle domande professore ma lei ad esempio quando parla delle invasioni pensa che questo invaderci sia veramente lo stesso invaderci di cui parla il signor salvini o penso che il signor salvini parli di un certo tipo di invasione mentre invece il professore galimberti parla di invasione ma non è un'accezione negativa quella in cui usa quel termine e allora perché non è un'accezione negativa perché c'è un passato filosofico in cui appunto come ho descritto prima abc e fg e quindi abcd e fg quindi questo io vorrei vorrei chiarirti informati se non sai se non ti sei informato penso che qualche soldo per qualche libro il professor galimberti tra le cose non costano tantissimo i libri come altri libri di filosofia che lui recensisce di cui parla nelle sue note di copertina non sono alcuni non sono costosissimi altri li puoi prendere di seconda mano su amazon se leggi bene in inglese li puoi leggere anche in inglese esempio gunter anders io me lo so leggendo in inglese se tu te lo vuoi leggere in italiano c'è una bellissima edizione italiana che costa neanche tanto te lo puoi comprare te lo puoi leggere se non se non lo puoi va in biblioteca e spendi qualche ora lì magari c'è una copia però sulla sulla tecnica sulle invasioni sull'educazione sentimentale sulla violenza sono tutti i temi che sono stati affrontati poi vabbè se un giorno avrai tempo e vuoi dedicarti un po di più alla filosofia fai un po un discorso con rick dufer che magari lui ti può sicuramente aiutare molto meglio di me sul discorso sulla tecnica perché dufer ne sa veramente tanto guardati qualche video di analisi cerca magari di vedere qualche intervento più lungo del professor galimberti poi ci sono anche degli studenti di filosofia che fanno le tesi di laurea come il mio amico armando marozzi che parla non parla di tecnica ma parla di nichilismo del liberismo di capitalismo applicato alla grande impresa ed è c'era tutto fai armando marozzi ti guardi la sua discussione col professor lo surdo della sua tesi di laurea cioè già lì ti apri a un determinato tipo di discorsi fatti ad un altro livello la tua critica un po becerà tagliando pezzi di video secondo me come ti ho lasciato il commento sotto è tempo sprecato veramente sprecato anche per chi ti guarda perché effettivamente c'è gente che può credere veramente che gallimberti il povero professor gallimberti abbia delirato invece non ha per niente delirato è stato in fede ai suoi principi filosofici e in suoi i suoi principi diciamo di di credenze di insomma a livello di sociologia eccetera poi se non sbaglio lui lavora anche con degli psichiatri e lavora in certi ospedali quindi conosce le patologie proprio per i loro effetti per i loro effetti più negativi beh adesso non voglio stare a andare a dire cose che conosco poco eccetera comunque grazie tante per se hai guardato il video fino alla fine per averlo guardato se vuoi farmi una video risposta o farmi un commento sei molto più sei il benvenuto arrivederci a tutti belli e brutti e mi raccomando mangiate bene dormite bene e scopate tanto mangiate bene e scopate tanto mangiate bene e scopate tanto mangiate bene e scopate tanto Grazie a tutti. Grazie a tutti.